questo telefono fa schifo mi permette di fare pochissimo di registrazione ah no, ho detto male, 18 minuti va bene è un po' troppo però va bene allora io sono roma da 1 andiamo di qua io sono Maurizio Pernotti e sono in compagnia di mio fratello Pietro Claudio Alessandro come lo volete chiamare e siamo in cerca dei volumi perduti delle bizzarre avventure di Giorgio perché adesso mio fratello vuole leggersi i bizzarre avventure di Giorgio perchè da anni in me non basta perchè ci va lanciano i 10 anni prima di Giorgio almeno eh purtroppo niente non ho fatto un video perchè mi registrati l'avventure costante? si possibile sai no perchè l'aspettavo, volevo registrare il piccione ma le muri pericolanti e non ho fatto video perchè dai non avevo tempo perchè dovevo studiare per un mese di verifiche voi non avete idea quanto fa schifo non so se sta registrando perchè è così scuro non riesco a regolare la luminosità dello schermo c'è troppo sole siamo in inverno e ci tocco sole siamo in inverno e ci tocco sole tutto è ancora uscito io ho problemi con il telefono e con la fotocamera quindi fotocamera e quindi non sono riuscito a fare video molti c'è ha fatto quello del pesce ma perchè l'iphone non ha l'audio di telefono non lo so se è stato pronunciato quindi basta non vedo niente con questo schermo così buio e niente e Gesù non è contento perchè tutti fanno l'amore prima del matrimonio e questo non va bene e poi lo fanno per divertimento non per procreare e non va bene eh no qui sarà stata una volta in cui Pepper la volta che Pepper49 è stato investito non so se vi ricordate spesso 8 mesi fa 6 mesi fa ma in tempo vuole quando non vuoi e non ci voglio rimanere a scuola a a a dopогliare la matematica perchè è brutta e ho recuperato i voti per ora non c'è fuori dai che voglio di fare matematica ah sei qua non ti avevo visto ecco i c mi devo mettere il laccio nella scarpa solo che non ti vedevo mi sto preoccupando sai come io sono un bravo fratello ti preoccupo per la tua salute eh non sento ah bravo io sono okuyasu se uno me lo chiede ehi 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 ok i miei versi erotici non so quanti anni avete voi o voi pubblico ma non rivedete quello che dico non vi farebbe bene la vostra reputazione con i vostri genitori sono sei minuti diciotto sto registrando io ho ancora 12 minuti fantastico ok oggi è sabato vediamo se ne apre le sedi veniamo a girare un'ora per città non hanno il pop i shrek grazie vedi hanno il pop i shrek va bene niente aperta un'ora e non va bene questo quindi niente Giorgio ciao grazie